Il popolo non è tale, è un popolo diverso perché riesce a dare l'amore in tutto, soprattutto quando si parla di una donna, beh, se non lo sapete, guardate qui. Il popolo non è tale, è un popolo diverso perché riesce a dare l'amore in tutto, ma non è tale, è un popolo diverso perché riesce a dare l'amore in tutto, perché riesce a dare l'amore in tutto, però non ci spie a dare l'amore in tutto, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti